Buongiorno a tutti sono Giulia Tassano sono una studentessa di economia aziendale oggi siamo qui con la professoressa Nieri che è anche coordinatrice del corso di laurea in economia aziendale per farle alcune domande. Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo chiedergli quali sono le principali tematiche e materie che si studiano all'interno del corso di laurea in economia aziendale? Allora il corso di laurea in economia aziendale offre una serie di insegnamenti che hanno carattere multidisciplinare significa che alcuni insegnamenti riguardano l'area economico aziendale che è quella che caratterizza appunto il corso di laurea stesso all'interno del quale quindi si studiano aspetti legati alla gestione delle imprese quindi aspetti legati all'amministrazione alla contabilità, alla finanza, al commercio, all'aspetto di marketing dell'impresa. Abbiamo poi delle altre materie che riguardano l'area economica quindi il funzionamento dei sistemi economici, l'area giuridica e regolamentare e infine l'area matematica quantitativa nella quale appunto lo studente acquisisce una formazione e gli strumenti anche per affrontare in maniera solida e robusta tutto il suo percorso. È evidente che poi all'interno di questo percorso lo studente ha una serie di gradi di flessibilità che può sfruttare per definire un percorso che è un percorso per certi aspetti personalizzato che segue i suoi interessi e le sue passioni. Poi volevo chiederle quali sono le principali opportunità di internazionalizzazione che vengono data ad uno studente di economia aziendale? Nel corso di laurea lo studente ha la possibilità innanzitutto di partecipare al programma Erasmus Plus che gli consente di quindi svolgere un semestre dei sei semestri del suo percorso di studi all'estero in uno delle 55 sedi con cui il corso di laurea ha appunto un accordo. C'è poi la possibilità di svolgere un periodo di studi anche in Università della Sud America grazie al programma SINDA ed esistono poi anche altre opportunità, una che secondo me è particolarmente interessante, è un programma di mobilità virtuale che consente quindi agli studenti senza spostarsi fisicamente ma di accedere ai corsi offerti da università europee, nella fattispecie tedesche, spagnole, francesi, vivendo quindi un'esperienza a 360 gradi internazionale. Aggiungo anche che proprio perché l'economia è globale anche all'interno dei nostri stessi corsi c'è un approccio fortemente internazionale. Poi volevo chiederle cosa fa tipicamente uno studente dopo aver conseguito una laurea triennale in economia aziendale? Allora quando si laurano gli studenti hanno davanti a sé due opzioni tendenzialmente, quella di proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale e all'interno del dipartimento offriamo appunto due lauree che sono in continuità quindi che al quale lo studente può accedere senza dover sostenere ulteriori esami, in alternativa lo studente può lavorare e in effetti la percentuale di studenti che trovano occupazione all'interno di imprese pubbliche, private, svolgendo anche attività che sono strettamente connesse con i saperi che ha acquisito nel suo percorso triennale è abbastanza elevata. Ci sono poi anche studenti che fanno entrambe le cose quindi che proseguono nel percorso magistrale e lavorano al tempo stesso. Infine volevo fare una domanda più tecnica, volevo chiederle quali sono le modalità di accesso al nostro corso e volevo chiederle quali sono i supporti che uno studente può avere per iniziare al meglio la sua carriera universitaria. Allora il nostro corso di laurea non è un corso a numero programmato ma prevede comunque un test di accesso che è volto a verificare sostanzialmente se lo studente che intraprende questo percorso ha tutte le conoscenze che gli servono per poi proseguire in maniera così molto serena e anche con successo il suo percorso di studi. Il test si articola in tre ambiti, l'ambito linguistico quindi di comprensione del testo, un ambito logico matematico in cui si testa appunto se le conoscenze di base, quelle che tipicamente si acquisiscono in una scuola secondaria sono state effettivamente acquisite e un test sulla lingua inglese che è considerata fondamentale per il percorso di studio economico che è all'incirca tarato appunto sul livello B1. Il corso di laurea è infatti un corso di laurea di grande soddisfazione ma abbastanza sfidante proprio perché abbiamo detto sono diverse le aree che vengono studiate e affrontate quindi è importante che lo studente parta già con una buona base di partenza. Questo peraltro nel suo percorso successivamente viene aiutato da molteplici figure all'interno dell'università a partire da me stessa o comunque dal coordinatore, da tutti gli altri docenti e anche da figure che tu conosci molto bene, quindi quelle dei tutor che dal primo giorno prendono come dire idealmente la matricola per mano e l'accompagnano in tutto il suo percorso assistendo in qualsiasi momento in cui si abbia bisogno proprio per facilitare il percorso, il passaggio tra quella che è la scuola secondaria e l'università dove le modalità di studio e di vita anche sono un po' diverse. Certo, la ringrazio tantissimo per averci dedicato parte del suo tempo per rispondere alle domande e saluto tutti e a presto. Sono io che ringrazio te per aver potuto esporre e raccontare un pochino di quello che accade nel nostro corso di laurea e saluto anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. A presto!